Al via la rassegna Notaresco Cult Estate 2014, una rassegna di eventi estesa fino a settembre con un cartellone messo a punto dall'amministrazione comunale di Notaresco e presentato questa mattina al Consorzio BIM, dal sindaco Diego Di Buonaventura, dall'assessore alla cultura Antonina Speziale e dal presidente dell'associazione culturale Castro Notarisco Riccardo Deustacchio. Tra gli eventi di punta del cartellone estivo, la rassegna di birre artigianali e la rievocazione storica Notarisco hanno domini 1514. Proprio Notaresco è la mamma di uno dei più importanti birrifici, non in provincia, non in regione, non in Italia, ma anche in Europa del birrificio che abbiamo per bacco di Luigi Rechiuti, che ha creduto e veramente fa quello che oggi si dice, il populismo, dobbiamo tornare a fare artigianato, non ripartire dal nostro territorio, dalla nostra terra. E' lui un laureato proprio con i suoi terreni, ha messo su un micro birrificio che oggi è sulla bocca di tutti veramente, per degustare e per il fatto che è un buon prodotto che oggi gira per tutto il territorio. Per noi è un vanto perché ecco con il prodotto, con la parte commerciale gira anche il nostro territorio che è Notaresco. Le finanze ridotte ci hanno portato a fare questo, a cercare sul territorio, non la chiamo manovalanza, la chiamo la voglia di fare per il paese, quindi abbiamo giovani che si sono interessati al paese, che hanno creato anche loro degli eventi e noi abbiamo messo a disposizione tutte le strutture che avevamo in comune per dar loro questa possibilità. Abbiamo integrato la cultura, l'ecologia, qualcosa per i bimbi, quindi abbiamo fatto un po' di tutto. Abbiamo giovani che fanno il Plenot Festival, interessantissimo per la musica giovane, questo è quello che abbiamo cercato di incentivare noi in comune. Come associazione Castro Notarisco presenteremo quest'anno per la prima volta una rievocazione storica che si basa su un documento storico, una pagina di storia di Notaresco e ci sarà anche la presentazione di un volume che ho curato nella realizzazione e vede anche la pubblicazione di documenti inediti riguardanti Notaresco sia nel 400 che nel 500. La rievocazione storica si svolgerà il 19 di luglio e ci sarà un corteo storico che muoverà per le vie cittadine e terminerà la sua camminata in piazza del Civitello dove ci sarà la rievocazione dei capitoli comunali, del Catasto e dello stemma comunale che nacque appunto nel 1515.